Quando gli acquirenti non pagavano scattava la reazione violenta del gruppo, minacciavano i tossicodipendenti e li picchiavano fino al punto da provocare a qualcuno di loro seri danni fisici. Un'organizzazione che smerciava a Bari grandi quantità di droga per un volume d'affari di migliaia di euro. Per gli investigatori è certo il collegamento con il clan del quartiere Libertà Strisciuglio. Nove le ordinanze eseguite all'alba dai carabinieri della Compagnia San Paolo su richiesta della procura di Bari. Le accuse sono di detenzione, fini di spaccio di droga, rapina, estorsione e tentata estorsione. Sei le persone finite in carcere, tre ai domiciliari. Per uno di loro il provvedimento è stato notificato in carcere perché già detenuto. Si tratta del 27enne Nicola Volpe. Dietro le sbarre sono finiti anche due suoi fratelli, un incensurato di 27 anni e il pregiudicato Donato di 30. Tra gli arrestati figurano Costantino Bonsante, 26 anni, Natale Cucumazzo, 34 anni, Michele Campanale di 27. Sono finite i domiciliari Antonio Pastorello, 31 anni, un incensurato di 27 anni e una donna, Domenica Celle a Mare, anche lei con precedenti penali di 24 anni. La presenza di una donna chi era? La donna era la convivente di un altro soggetto dedito alle attività di spaccio e appunto la loro convivenza le ha portati a portare a termine questa serie di spacci congiuntamente. Quindi è stata certificata anche l'appartenenza della donna alle attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono partite nel luglio 2012, in particolare da un episodio di aggressione nei confronti di un tossicodipendente picchiato al punto da perdere l'udito. La vittima non era riuscita a saldare un debito di circa 6.600 euro per l'acquisto di varie dosi di droga. Grazie ai classici sistemi di pedinamento e intercettazioni i carabinieri sono riusciti a ricostruire le modalità di spaccio che avvenivano a domicilio nei luoghi indicati dall'organizzazione. A casa di alcuni arrestati sono state trovate piante di marijuana e durante le indagini sono stati sequestrati complessivamente 600 grammi di hashish, 4 di marijuana, 6 di cocaina e una pianta di canapa indiana.